Abbiamo votato contro, continueremo ad opporci. Dopo otto mesi portano in Consiglio regionale il debito fuori bilancio per il Napoli, che vogliono dire 1.220.000 euro di debito per il 2020, ma fino a 14 milioni di euro, perché la Convenzione potrà essere ripetuta fino al dodicesimo anno. Per quanto ci riguarda è davvero grave questo sconvolgimento delle priorità e delle emergenze per questo governo regionale, per il presidente romano Marsiglio e per la sua giunta. La giunta più lenta che la Regione ricordi. Mentre centinaia di famiglie fanno la fila per avere un tampone, tanti bambini e anziani non riescono nemmeno a prenotare i vaccini per l'influenza. Gli operatori sanitari sono allo stremo senza una governance. Siamo arrivati alla ribalta, purtroppo, delle cronache nazionali con i fatti, presso un presidio a Vezzano, dove una persona morente è stata respinta per tutta una situazione di mancanza di governance della nostra rete ospedaliera. E tanto altro accade in tutte e quattro le realtà. E l'emergenza ovviamente tocca anche gli aspetti dell'economia, con le risorse che non sono state erogate. Questa giunta per otto mesi, dopo una convenzione illegittima, dopo quattro variazioni di bilancio sulle argomentazioni dell'urgenza, giunge a votare la legge per il debito fuori bilancio per il Napoli. Sembra essere stata solo questa l'urgenza che li ha contraddistinti per otto mesi del 2020 di governo. Continueremo ad opporci in tutte le sedi opportune.